dunque cosa vuole sapere dalle carte futuro scusi con le carte da briscola legge il futuro futuro presente e passato il 4 marzo dell'anno scorso lei ha scoperto il tradimento di sua moglie ah è la sua amante faccina con bacino e cuoricino futuro avrà grandi soddisfazioni da suo figlio ma se solamente sette anni ad agosto diventerà uno sportivo di fama internazionale buono un grande calciatore sì di quale squadra juventus juventus questo pallone va in quel canestro il basket è è uno sport bellissimo ahhh 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 Pagona all A вполне a un